Abbiamo il piacere di ospitare l'ex sindaco di Lecco, Pino Pogliani. Buonasera. L'abbiamo invitata perché è dibattito d'attualità, lo sarà il prossimo 5 giugno con la serata promossa da Appello per Lecco, la grande Lecco, ovvero l'idea di estendere i confini del capoluogo anche ai comuni del circondario. Innanzitutto Pogliani, lei cosa ne pensa di questa idea? Ho trovato interessante che per una sera tutti i rappresentanti delle popolazioni dei comuni limitrofi fossero riuniti, io non frequento molto l'ambiente politico-amministrativo negli ultimi anni, però questo l'ho trovato interessante, se non altro perché ci sono tutti coloro che sono deputati a prendere delle decisioni in merito. Mi aspetto fuochi di Santelmo, idee luminose. Ok, al di là delle idee luminose, non è un dibattito di oggi quello sulla necessità di ampliare i confini di Lecco. Innanzitutto forse farebbe un po' piacere ricordare anche qual è la storia della nostra città, perché magari tutti non lo sanno, ma Lecco ha una fondazione per come la conosciamo oggi abbastanza... Il Borgo, che nel 1948, nelle cinque giornate fu dichiarato città, ebbe questo onore, poi gli austriaci lo negarono e ritornò, quando finalmente ci fu l'unità d'Italia. Il Borgo era formato da Lecco Centro e Pescarenico, questo fino al 1923. Il governo fascista voleva accentrare le amministrazioni, quindi fece sparire i piccoli comuni. Per cui Lecco allora assorbì i comuni di Castello, San Giovanni, Rancio, La Orca, Acquate, quello di Germanedo e il comune di Magianico fino a Barco. Nel 1929 poi, quando c'erano già i podestà, nel 1929 finì di annettere tutta l'altra parte di Magianico. E questo, quindi, sono poco meno di cento anni, e c'è il comune di Lecco. Il problema si era presentato nel 1992 con la provincia di Lecco. Ricordiamo che in precedenza si era stato il comprensorio di Lecco e prima ancora, nel periodo regio, il circondario che era intermedio tra comune e provincia. Infatti ho notato che i comuni invitati a questo incontro sono proprio i comuni del circondario. Benissimo. Quindi, no, appunto, ripeto, si è arrivati a dover riprendere in considerazione l'argomento con la provincia, cioè dal 92 al 95. Ecco, voi cosa, lei era all'epoca, era sindaco, nel 93 era sindaco, lei all'epoca cosa pensava? E, diciamo così, ripresentandosi oggi questo problema, cosa è cambiato? E fondamentalmente possiamo ancora coltivare questo progetto o è acqua passata? No, i progetti si possono sempre coltivare, soprattutto se non si sono spesi soldi. Altro è il ponte sullo stretto di Messina, altro è questo che in fin dei conti è rimasto a livello accademico. Nel 93 noi dovevamo preparare una città che fosse un capoluogo. Gialecco aveva la struttura per essere il capoluogo dei comuni limitrofi, quindi avevamo tutti i servizi per i comuni limitrofi di prima necessità. Avevamo già, non so, il tribunale, biblioteca importante, l'ospedale importante, eccetera, eccetera. Vigili del fuoco, mancavano alcuni uffici pubblici e nel piano regolatore che allora veniva concluso si è tenuto conto non di una città chiusa in sé con 50.000 abitanti massimi, ma anche di tutti i flussi necessari di coloro che vengono dai comuni limitrofi, anche più lontani, vengono in città per fare i loro lavori, i loro acquisti per avere i servizi, la scuola, eccetera. Per cui era già una grande Lecco dal punto di vista del territorio, anche se il territorio non apparteneva al comune di Lecco. Però a grande Lecco lo si può vedere anche, io penso, un pochino dal punto di vista dell'Alecco importante. E allora le idee di allora, a parte l'attraversamento dell'Alecco Ballabio, allora l'Alecco, ve lo ricorderete, fino al 97, quando siamo stupiti, dal 93, era un unico cantiere sia per l'attraversamento che tagliava in due la città, sia per l'8.0 l'Alecco Ballabio. Quindi molte disponibilità non c'erano, però diciamo che quello di cui forse sono più affezionato dell'idea è stata l'idea di sviluppare l'istruzione a Lecco con l'università. Nel 96 è stato fondato Univerlecco con Camera di Commercio e le associazioni di categoria. Il primo anno il Politecnico di Milano si dette grandissima disponibilità, tant'è che furono 1400 iscritti, cosa isperata. L'idea non era appoggiata da tutti, poi quando è andata bene tutti hanno detto che bravi, ma all'inizio non era appoggiata da tutti, anzi. Quindi con 1400 iscritti e con prospettive da Sondrio si giunse a una conclusione, ho presentato in giunta la concessione al Politecnico dell'area dell'ospedale di proprietà del Comune di Lecco. L'area dell'ospedale vecchio era in comproprietà tra azienda ospedaliere e comune e quello mi sembra dal punto di vista dell'Alecco grande in altezza e non per superficie, mi sembra una buona cosa. Certo, però resta il fatto che comunque in questi dieci anni da una parte sia un po' arenata la progettualità ed è sotto gli occhi di tutti perché non si parla più, forse anche per una contingenza sfavorevole di grandi opere o di grandi iniziative. Dall'altra, insomma, è anche vero che sono un po' cambiate le abitudini, le usanze e la popolazione sta scendendo. Dall'altra parte registriamo anche un altro aspetto, infine, è venuto meno ruolo della provincia. Dunque, chi sostiene la necessità di ora di prepararsi a dare vita a un capoluogo che sia a meno di 80.000, dicono i fatti, persone, ebbene magari dice, forse a maggior ragione bisogna farlo ora che viene meno anche il ruolo di coordinamento della provincia. Lei, se avesse, diciamo così, una matita magica sulla cartina, cosa vorrebbe includere l'ECO? Eh, questo... beh, adesso... Senza poi volere, ecco, annettere tutti per forza, magari... Senza annettere tutti. Oggi l'ECO va a 48.000 abitanti. I comuni, i cui sindaci sono stati invitati, fanno circa 50.000 abitanti. Quindi in totale saremmo vicini a 98.000 abitanti. Le cose interessanti da annettere sarebbero l'altra sponda del lago, l'altra sponda del fiume, quella più interessante. Anche con una novità per l'ECO, l'ECO non è Brianzola, verrebbe ad acquisire dei comuni in territorio Brianzolo, che non ha acquisito dei comuni, delle aree in territorio Brianzolo. Dipendesse da me, dal punto di vista amministrativo, penso che non ci siano problemi per me. Esistono problemi, forse non solo per me, ma anche per qualcun altro, dal punto di vista delle convinzioni locali, delle scelte locali. Cioè, non tutti amano le stesse cose. Ci sono comuni, anche vicini, in cui uno ha un tipo di amministrazione, delle scelte, anche per i problemi più importanti. Altri che hanno scelte opposte. Adesso non voglio dare dei giudizi, né tantomeno fare dei nomi. Però io vedo, da quel che leggo, da quel che vedo, quel che sento, comuni che hanno atteggiamenti opposti sullo stesso problema. È un po' difficile metterli assieme. Sicuramente però un comune di 2.000 abitanti che entra nel comune di Lecco, che viene assorbito dal comune di Lecco, viene incidere poco. Però non so quanto quelli sarebbero contenti. Beh, certo. Però insomma, un passo va fatto. Però non chiedermi quali sono i comuni che ancora... Non voglio mettere in difficoltà. Non voglio mettere in difficoltà. C'è da dire una cosa, però lei è un appassionato di lago, converrà con me e con i telespettatori, che a Nintendo malgrado finalmente Lecco avrebbe un lungo lago degno di chiamarsi tale. Beh, non è che il nostro sia poi brutto adesso. Tu sei brianzolo, va bene, sei di là. Il nostro non è brutto, ha bisogno di qualche intervento. Sì, quello di Malgrate è buono. Però, contemporaneamente, bisogna rendersi conto... E questo spero di non essere equivocato. I comuni limitrofi hanno sempre goduto dei servizi di Lecco. I comuni, a carattere prettamente residenziale, hanno buon reddito, ma poco prodotto. Io parlo con amici, spesso, critiche o non critiche sul comune, su tutto. Poi ci penso e dico, ma tu non sei neanche le chiese. Cioè, c'è questo pensiero dei comuni limitrofi che Lecco sia un po' la mamma. Quindi, in un certo senso, già il capoluogo della grande Lecco c'è. Nei fatti c'è Jansson. Con qualcuno, quando parlo. A me non viene in mente di dire, tu hai detto Malgrate, di dire, ah Malgrate fanno, metto il becco Malgrate. Guardo, dico, è bello, ma... Invece ci sono persone che ritengono... Come in Lecco, la cosa abbastanza curiosa, questo per i localismi, c'è gente ancora che dalla orca dice, Voi gio a Lecco, e da chiuso dice, Voi gio a Lecco. Cioè, Lecco è rimasto per molti il vecchio nucleo centrale. Bene, insomma, Pogliani, abbiamo capito qual è la sua posizione. La grande Lecco c'è già nei fatti, bisogna capire come è attuale. Dal punto di vista amministrativo è una buona cosa, purché spariscano le province. Ecco. Di fatto ci sono ancora gli italiani che hanno votato per mantenerle. Beh, non era solo quello. Se fosse stato solo quello... Io comunque ringrazio Pino Pogliani per i suoi spunti di riflessione. Invito tutti poi a prenderne atto e a riconsiderarli nell'ottica del dibattito che si terrà il prossimo 5 giugno, che la vedrà fra i protagonisti. Sarà una serata parecchio movimentata. Gli ex saranno là fuori un po' di... di amarcordi, insomma. Però ecco, da quello che abbiamo sentito, la grande Lecco è già nei fatti. Entro certi limiti. E in certi limiti. Grazie ancora a Pogliani.